vi giuro che fino a due minuti fa ero incazzavo una iena, madonna certo noi si deve aver fatto qualcosa di male a qualcuno bisogna essere proprio stronzi per fare questa squadra bisogna proprio aver fatto un patto con qualcuno e un giorno si finirà tutti quanti all'inferno perché oggi ho tirato una quantità di madonna mare ma maiala ragazzi io ho veramente tante di quelle emozioni dentro di me contrastanti contento di essere passato grazie perché comunque volevo questo però dai ragazzi mamma cioè non so da dove inizio da dove inizio da dove inizio ragazzi ma da dove inizio cioè c'è talmente tante cose da dire che questo video potrebbe durare di un buono mezz'ora forse non basterebbe e guarda e tanto riassumendo si vorrebbe stare zitti perché veramente sta partita ragazzi si vorrebbe stare zitti e tutti ci si guarderebbe e ci si direbbe lo so lo so lo so voi ragazzi non siete normali voi non siete normali io penso allora senza esagerare e non sto esagerando io penso che questa sia stata la partita più brutta più brutta che abbia mai visto da veramente ho veramente fatica a ricordare una partita più brutta di questa proprio ma anche a livello di impegno di c'è la gente camminava cioè io ragazzi ve lo giuro non proprio brutta di obono mi ci avete fatto sorbire 120 minuti più rigori contro una squadra di obono di bassa serie B alta serie C Noji Golla Favarov 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 Pexi ma ragazzi e poi non me ne ricordo altri perché figurati cazzo se ricorda gli altri imbecili ragazzi bisogna cambiare a prescindere in meme tutto si ride e si scherza bisogna cambiare bisogna cambiare bisogna cambiare proprio mentalità bisogna cambiare cioè anche Palladino si deve rendere conto che non è più in Monza siamo una squadra che non è in Monza i giocatori in campo devono capire che stanno giocando nella Fiorentina accidenta a loro di buono a qualche d'uno cazzo cazzo vaffanculo perché ancora col pane non ho capito se l'è quello di Monza oppure l'è uno preso a caso dalla strada con scritto sopra sulla maglia col pane e con capelli lunghi uguali a lui e con i sottili inguardabili il primo tempo madonna il primo tempo ragazzi madonna il primo tempo madonna il primo tempo a chi secondo eh ma madonna il primo tempo madonna il primo tempo il primo tempo il primo tempo di questa partita il primo tempo di questa partita è una roba che davvero non bisogna farla vedere anzi non è che non bisogna farla vedere bisogna farla vedere a tutti per far capire a tutti quanto siamo imbecilli quanto siamo stronzi che c'è gente in campo che non corre non corre contro una squadra di serie C contro una squadra di serie C c'è mandragora da solo non vale come tutta la squadra c'è il valore di tutto il club di questa gente qui oh ma ragazzi ma oggi si giocava in un campo a parte di patale ma in uno stadio che non c'ha nemmeno 4.000 posti ma nemmeno 4.000 posti c'era Marianella e Lorenzo Minotti ah si sentono solo i tifosi della Fiorentina che tra l'altro voi siete i veri eroi i veri eroi di stasera perché davvero voi vi dà un po' una statua si sentono solo loro e grazie a cazzo saranno stati 200 in tutto lo stadio saranno stati 1200 persone cioè cioè vi giuro non so se ridere se piangere una partita imbarazzante imbarazzante ma ringraziamo ragazzi io io ve lo giuro non voglio più vedere una roba di genere non voglio basta abbiamo capito basta basta e guarda meno male c'è la pausa delle nazionali tra un po' almeno per due settimane si sta tranquilli perché io una roba di genere vi giuro non la posso reggere non la posso reggere ma ragazzi ma è mezzanotte ma vaffanculo vai vaffanculo nemmeno fosse sabato sera che cazzo video di bonus non so nemmeno come ve lo monto domani a live reaction uscirà domani sera di sicuro perché cazzo c'è una quantità di roba da montare tra moccoli rossidati a caso pali clamorosi della squadra avversaria non si è fatto poi un cazzo davanti un cazzo in attacco un cazzo ringraziamo l'ha segnato Moise Henn su tipo una delle pochissime azioni d'attacco e poi azioni d'attacco e Moise Henn che va dritto e basta perché bastava veramente poco cioè l'è entrato qua me nel secondo tempo e si è fatto poi fino ai supplementari diopono c'è stato certi momenti in cui sembrava Suarez davanti cioè bastava veramente poco c'era qua me che overperformava perché questi diopono sono scarsi come l'acqua nell'arno d'estate mamma mia che dramma ragazzi no ve lo giuro cioè non cioè mezz'ora fa ero incazzato una iena adesso mi viene quasi da ridere perché cioè siamo passati ma siamo passati siamo passati 9 oltre 11 oltre una squadra di serie C cioè tra meriti e demeriti tra un incredibile perché si era in due meno per mezz'ora e passa di tempo anzi di più e poi cioè contro lo giuro una squadra scarsissima 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 poi bello perché sarà finito al novantesimo sarà finito stronzi diopono si piglia il rigore finale al novantavattresimo poi si rimane in dieci poi in nove perché l'arbitro di cartellini se li deve mettere nel culo picco muzzo e basta e poi vabbè tanto sacrificio al campo di tanti ragazzi ho visto però c'è veramente razzi ma di che cazzo si può parlare stasera contento perché io voglio ripeto io voglio giocarla questa competizione ma mi sembra che più si va avanti e più voglio vedere meno partite possibili di questa squadra speriamo ci si svegli per bene perché davvero cioè adesso a parte gli scherzi cioè con l'Italia non sarà mai messo così male cioè a che bande siamo partiti con l'Italia non sarà mai messo così male nei momenti in cui ci si aveva dei faianze se ne aveva diverse per tutti questi tre anni ma così male no cioè io me la ricordo mi ricordo le partite di Moni primo anno e si è perso 4-0 con l'Udinese 4-0 con il Torino si è preso 4 dalla Sampdoria mi ricordo se finiva tra 0-4-1 insomma c'erano le partite dei faianze si faceva male ma una partita cioè questa è la quarta è la quarta è taggiato contro Parma l'andata di questi imbecilli in Venezia e il ritorno con questi imbecilli cioè queste quattro squadre la volta si becca l'Inter ce ne danno 10 si becca la Juve ce ne danno 19 boh ragazzi non so veramente cosa dirvi domani live reaction sempre Forza Viola io boh cioè proprio davvero stasera non lo so vabbè andiamo a letto andiamo a letto andiamo a letto ragazzi andiamo a letto andiamo a letto basta nascondiamoci andiamo a letto domani speriamo di svegliarci e di rendersi conto e magari questo è stato tutto un brutto sogno ciao ragazzi grazie a tutti